Festa tricolore per Adriano Nicchi, erano in tanti al gold per onorare il titolo italiano conquistato dieci giorni fa Castiglion-Fiorentino contro Di Fiore. I tifosi di Adriano non hanno fatto mancare l'affetto e la partecipazione a quello che di fatto è diventato l'evento sportivo più importante di Arezzo in questo 2010, che ha dato poche soddisfazioni allo sport di casa nostra. Nicchi è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante, ribattendo anche dalla sconfitta di Livorno con quel bottai che non dimostrò grande sportività. Tutto questo è stato cancellato contro Di Fiore e finalmente il pugile più piccolo della Niki Dynasty ha portato in casa quel titolo che ha sempre sognato. Per lui una serata in allegria, consapevole che il pugilato non permette ulteriori distrazioni. Ora questa corona va difesa il più lungo possibile. Volevo ringraziare innanzitutto il Gold che mi ha ospitato in questa magnifica festa e tutti gli amici che sono venuti qua perché sono magnifici, veramente fantastica come festa. Ringrazio tutti. Ringrazio la pasticceria sotto le mura che mi ha dedicato una fortuna stupenda e spero di riportare tante speranze sportive ad Arezzo e ci metterò tutto me stesso e tutto il mio cuore. Grazie di cuore veramente a tutti.